Oggi vogliamo parlare di un tema molto importante per la nostra salute, gli antiossidanti. Ma cosa sono esattamente gli antiossidanti? Gli antiossidanti sono sostanze naturali che aiutano a proteggere le nostre cellule dai danni causati dai radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento cellulare. L'ossidazione cellulare coinvolge le molecole chiamate radicali liberi, che sono prodotte quando il nostro corpo utilizza l'ossigeno per produrre energia. I radicali liberi possono danneggiare le cellule e i tessuti del nostro corpo, causando l'invecchiamento precoce, le malattie, e persino il cancro. Fortunatamente il nostro corpo ha un sistema di difesa naturale, gli antiossidanti, che possono neutralizzare i radicali liberi e prevenire i danni cellulari. Questi sono prodotti in parte dal nostro corpo e si trovano anche in molti alimenti, come frutta, verdura, noci e semi, e si trovano anche sotto forma di compresse, come ad esempio la spirulina. In sintesi, l'ossidazione cellulare è un processo naturale che può influire sulla salute delle nostre cellule e del nostro corpo. Possiamo quindi proteggere le nostre cellule consumando integratori e alimenti ricchi di antiossidanti, ma anche adottando uno stile di vita sano ed equilibrato. Gli antiossidanti sono presenti in molti alimenti, in particolare nelle verdure a foglia verde, nei frutti di bosco, nella frutta secca e nell'olio extravergine di oliva, e sono anche disponibili in forma di integratori alimentari. La salute delle nostre cellule è essenziale per il nostro benessere generale, poiché esse costituiscono i mattoni fondamentali del nostro organismo. L'ossidazione cellulare, che si verifica naturalmente nel nostro corpo, è un processo chimico che può influire sulla salute delle nostre cellule. La spirulina è un superalimento dalle molteplici proprietà benefiche, per il nostro organismo. Questa alga azzurra è ricca di nutrienti essenziali, come proteine, vitamine, minerali e antiossidanti, che la rendono una valida alleata per la nostra salute.